Sbloccati i 300 milioni di euro del Fondo Infrastrutture Sociali per i Comuni del Sud, con la presa d'atto della conferenza Stato-Città dopo un confronto essenziale con l'Anci, è arrivato il via libera al decreto che ripartisce 75 milioni annui dal 2020 al 2023, direttamente alle amministrazioni locali del Mezzogiorno, privilegiando le città medie e piccole per nuovi interventi, manutenzione straordinaria su scuole, strutture, residenze, sanitarie, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale. Grazie a questi 300 milioni le amministrazioni locali potranno investire subito per garantire servizi sociali e spazi pubblici anche con piccoli interventi che contribuiscono a rilanciare, soprattutto dopo la pandemia, l'economia locale e la qualità della vita, ha dichiarato il ministro Provenzano a margine dei lavori della conferenza. Il decreto mette al centro i comuni e finalmente riconosce risorse adeguate anche ai piccoli e piccolissimi per prendersi cura delle persone e delle comunità in ragione della fragilità troppo spesso ignorata da un'azione pubblica che non deve più fare parti eguali tra diseguali. Il criterio di ripartizione è infatti inversamente proporzionale alla popolazione di riferimento, in modo da garantire anche a un comune di 500 abitanti un contributo totale di 32 mila euro, mentre un comune con popolazione maggiore di 250 mila abitanti riceverà un contributo totale pari a 655 mila euro, relativamente maggiore in procapite. Si abbandona il criterio storico di attribuzione delle risorse, si pone attenzione alle zone deboli del paese per offrire a tutti i cittadini le medesime opportunità.